L'esperienza con Teleton è esclusivamente ed assolutamente positiva. La possibilità di incontrare esperti di altri campi, esperti comunque di livello estremamente alto, è, come si dice, arricchente. Il sentimento fra noi esperti è che Teleton lavora in maniera estremamente professionale, estremamente pulita. Nella valutazione del valore di un progetto di ricerca, il paziente è sempre là, è sempre presente di fronte ai miei occhi. Ogni grant viene preso sul serio, quindi il lavoro che fanno non è sprecato, anche quelli che riceveranno purtroppo una risposta negativa perché i soldi sono limitati, beneficeranno almeno dell'expertise che gli esperti scriveranno e comunicheranno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.